Per fare le lasagne all'ormeasca sono necessari i seguenti ingredienti. Farina bianca, farina di grano saraceno in poca quantità. Il grano saraceno è un antico grano autottono di queste zone come di molte zone di montagna. Sale, latte e acqua tiepida. Quindi si mescola un pochino la farina e poi si aggiunge un po' di farina di grano saraceno, un pizzico di sale, il latte e l'acqua. Come vedete in questa ricetta non sono presenti le uova e questa è un po' una caratteristica della cucina povera di montagna. La pasta all'uovo veniva soltanto preparata nelle occasioni speciali. Quindi si impasta fino ad ottenere un impasto non troppo duro perché poi dovrà essere steso col mattarello. La presenza del grano saraceno in questi piatti è abbastanza comune. In epoca medievale questa valle è stata un luogo in cui ci sono state incursioni dei saraceni, più che altro predoni o comunque bande di predoni che arrivavano dal Mediterraneo, approdando poi sulla costa francese, sono risaliti nell'entroterra ligure fino ad arrivare appunto in questa fetta di Piemonte occidentale. Queste ricette che venivano trasmesse da madre in figlia è chiaro che il quanto basta è la regola. Ora che ho assottigliato la mia pasta con la rotella andrò a tagliarla. L'irregolarità attesta appunto il fatto che questa pasta è fatta manualmente. Il mattarello per stendere la pasta in ormeasco si chiama appunto lasagnao perché principalmente veniva utilizzato appunto per stendere la pasta e fare le lasagne all'ormeasca. Ora che le lasagne sono pronte abbiamo messo l'acqua a bollire sulla stufa e la ricetta prevede di aggiungere delle patate. Tradizionalmente queste lasagne si mangiano appunto con formaggi, panna e latte. Quando l'acqua bollirà e le patate saranno cotte insieme all'acqua si possono mettere finalmente le lasagne. Prima di immergerle nell'acqua è a cortezza setacciarle per togliere un po' di farina. A fine cottura verranno tirate su di solito con un mestolo e unite al sugo e quindi portate in tavola. Grazie a tutti.